Un progetto per la sicurezza idraulica che ha anche dei vantaggi pratici. Entro fine anno saranno appaltati i lavori per la realizzazione del nuovo canale scolmatore del lago di Alleghe e la messa in sicurezza di un'area lungo il Cordevole che ha ereditato dall'emergenza VAIA un rischio maggiorato di allagamenti. Il quadro economico è di 1,8 milioni di euro per il primo intervento e di un milione per il secondo. La fonte di finanziamento sono i fondi post VAIA. Con il progetto che è stato realizzato da Veneto Acque verrà realizzato un canale scolmatore all'altezza del Masaree in corrispondenza delle due paratoie. Questo canale non risolverà definitivamente il problema delle grandissime portate però le attenuerà almeno in questa fase fino a che le paratoie non verranno abbassate. Questo progetto è stato realizzato in collaborazione con Enel, Veneto Acque naturalmente e i progettisti del studio locale. Diciamo che verrà realizzato questo canale di una sezione di tre metri per sei che garantirà una portata di circa 25 metri cubi al secondo quindi sicuramente nel caso di grossi nubi fragi si dovrebbe ridurre l'inalzamento del lago e quindi l'allagamento della strada lungo lago e degli edifici che insistono appunto sul lungo lago. Ci sono implicazioni anche per quanto riguarda il rispetto del deflusso minimo vitale ovvero il flusso idrico minimo da garantire per legge. Avere questo canale permetterà di operare qualora l'Enel decida di abbassare le paratoie di poter operare garantendo il deflusso minimo vitale. Oltretutto potranno essere realizzate anche delle opere sul lago quindi con un abbassamento molto importante dell'acqua senza andare in secca perché il deflusso minimo vitale sappiamo che per legge deve essere garantito.